Lutto cittadino oggi a Torella dei Lombardi per il giorno dei funerali di Don Vitolo Trecchiano, parroco della comunità altirpina, stroncato da un malore nella giornata di ieri. Dopo la veglia di preghiera di ieri sera sono stati in molti da ogni parte dell'Alta Irpinia a recarsi nella chiesa madre di Torella per un ultimo abbraccio ad un parroco molto amato e conosciuto su tutto il territorio. Altirpino in tanti a ricordare con emozione il parroco 54enne che per il vescovo Don Pasquale Cascio ha dato tanto alla comunità parrocchiale di Torella dove ha guidato la chiesa per più di 25 anni. La nostra chiesa diocesana piange questo suo figlio che nel sacerdozio serviva la chiesa e serviva in modo speciale questa comunità parrocchiale di Torella ormai da 25 anni e sicuramente egli qui ha dato il meglio del suo sacerdozio perché è arrivato giovane sacerdote e ha servito con entusiasmo soprattutto nell'annuncio della parola e soprattutto nella guida della comunità che ha dato il meglio delle sue energie di giovane prete e ora aveva le sue difficoltà di salute però quando la comunità è una vera famiglia nelle difficoltà ecco chi è servito da un padre sa anche come servire e accogliere un padre. Abbiamo perso la nostra guida spirituale, siamo stati vicino a Don Vito insomma in tutte le sue vicissitudini di salute però quest'ultima volta evidentemente non ce l'ha fatta ci stringiamo come comunità accanto ai familiari di Don Vito accanto ovviamente a Sua Eccellenza il nostro Vescovo e a tutta la comunità parrocchiale di Torella dei Lombardi. Don Vito è stata per noi la persona che ci ha visto crescere e è stato qui per più di 25 anni è stata una parte fondamentale per il paese e è venuto a mancare e manca un pezzo di noi. L'insegnamento è stato quello che diciamo tutte le brave persone possono lasciare insomma a qualsiasi comunità, a qualsiasi famiglia l'amore, il rispetto insomma per tutti. È stato tanto bravo, un figlio come mi voleva bene come una mamma e io come un figlio ho dato un onore a tutta Torella.